Qual è lo stato di salute della popolazione nel Lazio? Al quesito hanno risposto in maniera lampante i dati pubblicati nel nuovo Open Data sviluppato dal Dipartimento di Epidemiologia della ASL di Roma 1. Il sito presenta una sezione dedicata ai dati demografici e agli indicatori di salute, in particolare la salute materno-infantile, la frequenza delle malattie, l'incidenza dei tumori, infine le cause di ricovero e cause di morte. A queste si aggiungono la vera novità, commenta il consigliere provinciale e comunale di Frosinone Danilo Magliocchetti, ovvero la sezione sintesi dello stato di salute, dove è possibile selezionare il territorio di interesse come l'intera regione, ma anche una singola ASL, un distretto, un comune, oppure un'area selezionata direttamente da una mappa. Il sistema, in modo semplice e veloce, aggrega e presenta tutte le principali informazioni sulla salute della popolazione che risiede in quel territorio. Andando quindi ad interrogare il sistema sulle cause di morte per tumori maligni per tutti i generi, per la ASL di Frosinone, nel distretto B, è emersa una situazione incostante e crescita negli anni. Se nel 2006 erano circa 440 i casi, nel 2017 sono aumentati a 555. Mentre invece, negli altri tre distretti, come Alatria Nanni, Sora, Cassino e Ponte Corvo, la tendenza del numero dei decessi per tumori maligni negli anni è pressoché uguale, se non in diminuzione, come ad esempio nel distretto D di Sora. È un dato quello del distretto B di Frosinone che va comunque opportunatamente monitorato e studiato più approfonditamente per capirne le cause. Il nuovo Open Data regionale sullo stato di salute della popolazione, conclude Maiocchetti, costituisce un importante e prezioso strumento di valenza epidemiologica per capire qual è e come si evolve negli anni lo stato di salute dei cittadini nella provincia di Frosinone.